Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno a parlarvi della classifica dei migliori smartphone, questa volta torno nella fascia sotto i 200€. Una fascia che è parecchio bassa rispetto al trend del mercato che tende a proporre smartphone sempre più costose, quindi ci sono delle buone alternative, ma spesso si può anche incorrere in qualche telefono che non va molto bene. Quindi torno nella mia selezione, ovviamente sono tutti i telefoni che ho provato personalmente, quindi potete fidarvi perché li ho testati con mano, quindi so che vi troverete bene. Quindi iniziamo subito, però prima vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, i commenti sono aperti per qualsiasi dubbio riguardanti questi telefoni, quindi iniziamo subito. Il primo modello è sempre Huawei P Smart Z, un telefono che mi ha convinto perché ha un display senza interruzioni, con la camera pop-up, molto carino. Infatti il display è un 6,59 pollici, è un telefono che non è piccolo, ma comunque essendo con cornici ridottissimi, senza interruzioni, con la camera pop-up, poi ancora i servizi Google, perché infatti ha il Kirin 710F, quindi un processore che gira abbastanza bene, che comunque ha ancora la certificazione Google, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Poi comunque il reparto fotografico è comunque composto da una 16 megapixel più un secondario sensore da due, che comunque scatta abbastanza bene, poi comunque abbiamo la RAM e 4GB che bastano, la memoria è 64GB, la batteria è 4.000 ampere. Huawei P Smart Z è disponibile su Amazon e su eBay intorno ai 150€, quindi molto interessante. Rimane però l'incognita degli aggiornamenti a causa del ban degli USA. Mentre rimaniamo sempre in casa Huawei, qua saliamo un po' di prezzo per gli Huawei P30 Lite. In questo caso abbiamo un display un po' più piccolo, un 6,15 pollici, però con noccia a goccia, quindi non ha la camera pop-up, però comunque un telefono che è un po' più compatto, maneggevole, comunque con una batteria da 3840 mAh che comunque porta a sera. Il comparto fotografico è un po' meglio perché abbiamo quattro sensori, il principale è da 48 megapixel, poi c'è una grande angolare e altri due sensori che servono a fare numero. Comunque anche qua abbiamo il Kirin 710 che gira abbastanza bene, il taglio di memoria è 428, quindi abbiamo parecchia memoria. Abbiamo sempre la MIUI 10 con Android 10 e tutti i servizi di Google, quindi telefono pronta all'utilizzo. Huawei P30 Lite non si riesce molto facilmente a trovare ultimamente, però se lo trovate intorno ai 199€ potete comunque tenerlo in considerazione anche se comunque però acquistare un Huawei in questo periodo è un po' un incognito perché non sappiamo se passeranno ad Harmony OS o se l'America con Trump riusciranno a riconcedere il permesso per utilizzare i servizi di Google. Invece come abbiamo marca abbiamo l'OPPO A9 2020, un telefono che ho visto che a voi è piaciuto molto, avete visto in tanti la mia recensione, mi fa piacere, vi ringrazio. Comunque un telefono convincente che ha una batteria da 5000Ah quindi dura tantissimo, ho fatto anche due giorni. Il processore è uno Snapdragon 665 che comunque fa girare abbastanza bene il telefono. Abbiamo 4GB di RAM e 128GB espandibili. Il display è un 6,5 pollici e purtroppo soltanto HD ma però devo dire che comunque si vede bene. Poi comunque con un altro mio del genere si può perdonare questa sbavatura. Mentre l'OPPO A9 2020 si riesce a trovare su Amazon ed eBay tra i 164€ e i 185€. Assolutamente niente male per questo telefono che va molto bene. Poi abbiamo TCL e DCL che l'ho provato di recente ed è un telefono con un display da 6,5 pollici e un IPS Full HD con HDR molto bello. Con il foro per chi ha la fotocamera frontale da 16 megapixel. Mentre sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 665, un processore che riesce a farlo girare molto bene. Poi comunque la memoria abbiamo 6GB di RAM che è più che adeguata e la memoria interna 64GB però espandibile. Il comporto fotografico invece è composto da un 48 megapixel f1.8, una grandangolare da 8 megapixel e altre due sensori da 2 megapixel. La batteria è una 4000A e abbiamo Android 10 con la TCL UI che è un'interfaccia che mi piace perché è curata ed è molto simile ad Android Stock. TCL e DCL è disponibile su Amazon ed Ebay intorno ai 150€, un prezzo assolutamente niente male. Abbiamo poi Xiaomi Redmi Note 9, il modello base della famiglia però ha un bel display IPS Full HD Plus da 6,53 pollici, ha un foro per la fotocamera frontale quindi è un'interruzione poco invasiva. Il processore è un Mediatek LG 85 ma non temete perché riesce comunque a far girare bene il telefono. Poi se quando l'avevo provato c'erano un po' di bug adesso che è arrivata la MIUI 12 con Android 10 sono stati sicuramente risolti un po' di bug quindi sicuramente diventato più affidabile. Poi la memoria abbiamo il taglio da 64-128GB come la RAM che c'è sia da 3 che da 4GB quindi prendete quello da 4-128GB che costa poco più dell'altro. Il comporto fotografico soddisfa con un 48MP, è anche una ultra grandangolare e altri due sensori da 2MP che servono a ben poco. La batteria è una 5.020 mAh e devo dire che porta sempre a sera. Il prezzo vale a 330-180€ quindi io ve lo consiglio se lo trovate intorno ai 130€ soprattutto però se guardate anche la differenza di prezzo rispetto al modello 9 Pro e al 9S che sono subito e se lo riuscite a trovare a poco più prendete quelli perché secondo me ne vale più la pena. Poi c'è la Mi 6 che ha un bel display PS col foro quindi poco invadente. Abbiamo un processore Mediatek LG 90T ma è assolutamente consigliabile perché gira bene. C'è il modello con 4-8GB di RAM. Il comporto fotografico è composto da ben 4 sensori, una principale 64MP, una 8 e due sensori da 2MP quindi devo dire che se la cava abbastanza bene. Troviamo prima installata la nuova Realme UI che mi piace molto, molto accattivante e fatta bene. E la batteria è una 4000A che porta comunque tranquillamente a sera. Realme 6 nella versione base 4-64 costa 188€ quindi siamo nella fascia di prezzo in esame in questo video mentre per il modello con più memoria quindi quello da 828 che è anche quello che ho provato io costa intorno ai 230-260€. Quindi per questo video è tutto, questi sono i miei consigli. I commenti sono aperti per cose di dubbi o domande riguardo fatemi sapere anche che telefono avreste inserito voi. Lasciate un bel like e noi ci vediamo alla prossima sempre qua sul mio canale. Ciao!